allora buonasera e io sono appunto roberta scuranesi sono una giornalista del corriere della sera sono molto felice di essere qui questa sera perché questo è un bel libro ecco cominciamo col dire subito una cosa io per mestiere leggo tanti libri e quando mi arrivano le biografie le autobiografie sono sempre un po diffidente perché ho sempre in mente o l'auto celebrazione o invece un elenco di aneddoti insopportabili che alla fine sono anche abbastanza stucchevoli invece questo lasciateci perdere un libro scritto molto bene in cui come giustamente diceva prima il direttore non è non c'è soltanto la vita di Gabriele Salvatore ma c'è un ritratto di un'intera generazione e questa è la cosa molto bella c'è un grande respiro in questo libro si sente che tra voi due c'è stata dato che vi conoscete da tanto tempo parla jacobbi l'avrete letta tutti con le sue meravigliose interviste con il suo occuparsi di questi temi a da tanti anni e devo dire che quando ho letto il titolo lasciateci perdere io non sapevo di che cosa stessimo parlando ma perché lasciateci perdere cioè non so salvatore se uno si aspetta non so mediterraneo qualcosa poi ho scoperto perché e adesso glielo chiediamo a Gabriele ma prima Gabriele volevo chiederti di commentare la fotografia che c'è in copertina di questo libro che è bellissima secondo me chiedo scusa a tutti per questo non è una parrucca quella che ho erano veri una volta c'erano perché questo è un libro è un libro di fughe tanto per cominciare che è un altro tema che percorre un po tutta la storia di Gabriele è un libro generazionale l'abbiamo già detto ma è anche un libro su una giovinezza insistita e questo mi piace è una cosa che poi si ritrova anche in tanti i tuoi film uno sguardo che è rimasto sempre molto molto puro molto rigorosamente legato a un certo modo di pensare in questo senso una giovinezza che resiste e allora volevo cominciare proprio col chiederti qui la chitarra i capelli lunghi che cosa stavi facendo se proprio vuoi saperlo eravamo andati c'erano due attori della compagnia che stavano insieme del teatro dell'elfo che allora stava nascendo che si erano separati e per noi era un dolore come se fosse una cosa personale per cui eravamo andati a trovare a trovare lei che era dalle parti di cecina per cercare di convincere a tornare col col suo fidanzato il pacere stavo suonando cose canzoncine d'amore eccetera i capelli sei i capelli allora erano quasi una bandiera ecco mio padre che era un avvocato napoletano crociano quindi aperto di vedute ma ma formalmente legato alla tradizione però bravissimo non mi ha mai obbligato a tagliarli non mi ha mai detto tagliati sticcazzo di capelli ma mi ha detto non avrebbe mai detto così ma mi ha detto l'unica cosa ti chiedo per favore quando siamo insieme se cammini sull'altro marciapiede è più ecco e per cui io continuate a portare fino a che non sono tremendamente caduti va bene però ci sta bene anche con il titolo lasciateci perdere adesso ci arriviamo si parte proprio da dall'infanzia di gabriele nato a napoli io tra l'altro non lo sapevo l'ho scoperto leggendo questo libro nato a napoli subito immediatamente poi trasferito a milano con la famiglia allora vorremmo chiedere a paola prima di ritornare a gabriele e addentrarti nella vita di di questo artista di questo regista che noi conosciamo per alcuni film famosissimi e anche per un certo modo di fare cinema no che cosa è che ti ha colpito soprattutto dell'infanzia e poi dell'adolescenza a milano ma guarda dell'infanzia mi ha colpito tantissimo c'è una cosa che sembra banale ma ogni volta che la tocchi con mano conoscendo le persone che fanno questi lavori creativi è sempre un po miracolosa cioè il fatto che lui fosse un bambino pieno di immaginazione questa cosa qui che diamo un po per scontata no immaginiamo che dietro uno scrittore un regista un pittore un artista un musicista ci sia un bambino pieno di immaginazione ma è proprio vera ed è proprio concretamente vera e quindi nel racconto di alcuni momenti della sua infanzia con anche proprio delle pozze direi di solitudine nonostante abbia avuto un'infanzia bellissima molto coccolato una mamma molto amorevole due sorelle che probabilmente lo veneravano essendo lui il fratello maggiore che poi le sfruttava un po come Spielberg nei Fablemans no le usava come come cavie come cast come aiuto registe eccetera per fare le sue prime cose però era proprio questa cosa della vivida immaginazione lui per esempio per per darsi un tono nella palazzina dove viveva Milano si era disegnato lui da solo una maschera da tigre tipo proprio una maschera di cartone con l'elastico dietro e pensava di andare in giro a terrorizzare gli abitanti del condominio no come se con questa maschera non lo riconoscesse questa immagine che lui mi ha raccontato a me ha subito fatto venire in mente una serie di film per esempio tra i più recenti di Gabriele che poi recenti ormai parliamo di dieci anni fa dei due film del ragazzo invisibile e poi comunque non so la sua attenzione al mondo dell'infanzia in film come io non ho paura ma anche lo stesso ma è quello che che sta preparando adesso insomma c'è un questo collegamento tra l'innocenza e la fantasia dell'infanzia che se uno è capace di portarseli dietro davvero nell'età adulta riesce a farne la sua arte allora una cosa no che si dice sempre poi dopo però quando la incontri in carne ed ossa nel racconto vero di una persona io l'ho trovato cioè lo trovo molto emozionante e nel caso di Gabriele lo è stato in modo particolare perché c'è proprio una linea che segue questa idea appunto che cioè che la vita è un circolo no che torna nei posti dove in fondo prima hai costruito dei ricordi e poi dopo li ritrovi li riutilizzi l'altra cosa che mi ha colpito di questo libro è che ogni tanto la tua vita Gabriele è raccontata con degli episodi che sembrano davvero presi da un film abbiamo già detto una buona famiglia il papà un professionista affermato non facilissimo il suo percorso perché arrivati a Milano non è stato facile per la tua famiglia per tuo papà poi mettere su uno studio professionale importante però alla fine ce la fa questi capelli lunghi che diceva sì però passa dall'altra parte eccetera ma c'è un episodio risale al 1960 quindi dieci anni eclisse di sole e che cosa fa il papà perché si era dimenticato di comprare gli occhialini al bambino che invece che voleva vedere come tutti insomma osservare questo fenomeno questo è interessante perché sembra davvero preso da un tuo film sì perché è il primo contatto avuto con la pellicola fotografica noi non avendo si era dimenticato tornava a casa sempre molto tardi lo vedevo delle volte veniva a salutarmi che già dormivo però sentivo il profumo e l'odore delle sigarette e questa cosa comunque mi dava sicurezza perché era tornato papà e una e tornando una delle serie se l'ha dimenticato di prendermi questi occhialini che tutti i miei compagni di classe invece avevano già pronti e quindi io già vedevo la tristezza di dover andare a scuola il giorno dopo e prese una pellicola fotografica esposta naturalmente quindi scura e attraverso la pellicola nera riuscivo a vedere perfettamente il sole senza che mi desse fastidio è curioso perché in effetti è vero in realtà è uno dei ricordi che sono saltati fuori parlando con Paola perché la nostra più che una biografia è una seduta di psicoanalisi veramente ci siamo messi a parlare e così come quando si va in analisi per associazioni sono saltati fuori i ricordi e i pensieri e in effetti è curioso che da piccolo questo fenomeno spettacolare dell'eclissi l'avesse visto attraverso una pellicola una pellicola fotografica che adesso non si usa più ahimè però questa è la cosa che mi ha colpito molto dieci anni un bambino che vede questo fenomeno atteso da tutti attraverso una pellicola e poi inizia come dire inizia in Gabriele a farsi strada quest'idea del teatro della recitazione questa affascinazione erano anni molto interessanti vero Paola gli anni in cui Gabriele è cresciuto nella Milano in cui Gabriele è cresciuto tu sei arrivata dopo però insomma puoi raccontarci quanti stimoli aveva questa città e quanto poi sia stato quasi naturale per un bambino intelligente sveglio sensibile poi arrivare a teatro e poi dopo al cinema erano anni di passaggio io ho dieci anni meno di Gabriele quindi ero piccola però ero adolescente quando lui aveva iniziato il teatro dell'elfo e devo dire che per quelli della mia generazione cioè c'era un sacco di gente della mia generazione che non avrebbe mai messo piede a teatro non avrebbe mai messo piede al piccolo teatro al teatro manzo insomma ai teatri tradizionali teatri dove andavano i nostri genitori e invece improvvisamente c'era una compagnia teatrale poi in realtà man mano ce ne sono state anche altre un po' in tutta Italia no l'elfo fa parte di un grande movimento dei teatri italiani in quegli anni che facevano alcune cose più radicali altre altre cose magari se volete più pop con tutte le sfumature in mezzo di queste due espressioni però era una specie di network si direbbe oggi che non aveva non poteva contare su social media internet gruppi di facebook whatsapp eccetera e che miracolosamente però poteva contare su una comunione di interessi e di intenti e per quelli che avevano 16 17 anni come me alla fine degli anni 70 andare a vedere uno spettacolo dell'elfo era quello che si direbbe oggi un evento no perché loro erano gli unici che facevano degli spettacoli che mettevano insieme Shakespeare e la musica rock il cinema perché comunque nel teatro di Gabriele già questa attenzione che oggi chiameremo multimediale esisteva già e appunto è il teatro tradizionale con degli attori che non erano delle star perché nessuno li conosceva ma che lo diventavano grazie a questi spettacoli cioè erano gli spettacoli la star ed era il teatro la compagnia del teatro dell'elfo sempre per usare scusate questi termini orribili oggi il brand no era era un marchio quindi tu sapevi che andavi a vedere una cosa che aveva una sua originalità e tutto quanto e questo era firmato da Gabriele e da questo collettivo di 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 attori di interpreti del teatro dell'elfo quindi stava assolutamente nello zeitgeist no nello spirito del tempo e nello spirito di quello che era la Milano di quegli anni però poi loro hanno anche girato tutta Italia certo scusa non posso farne a meno e ogni volta che si parla di quegli anni lì degli anni settanta che vero Milano poi tra l'altro si sparava per le strade non era non era però c'era una creatività e una voglia di esprimersi anche una voglia di cambiare il mondo appunto una musica meravigliosa cinema non solo a Milano ma in giro per il mondo bellissimo per cui sono anni che io amo e che viene in mente sempre questa battuta di Altan che posso non posso fare meno di dirvi perché dice dopo dopo il gelo degli anni di piombo godiamoci il calduccio di questi anni di merda però qui torna la chitarra perché uno si chiede come si arriva ai film di Salvatores cioè come si arriva a quei film a tra l'altro a una cinematografia che a guardarla così in retrospettiva ha davvero attraversato tanti territori diversi voi nel libro definite tante piccole fughe in avanti in altri territori quindi abbiamo avuto la trilogia della fuga appunto come si ricordava prima marrakesh express e poi tournée poi mediterraneo ci sarebbe anche puerto escondido no dopo che in qualche modo possiamo entrare cioè possiamo farlo rientrare nella no in questa anche se sì nella nella sorta di quadrilogia della fuga si potrebbe dire la musica che nei tuoi film è molto importante c'è un capitolo molto bello dedicato alla musica in cui si parla delle colonne sonore diventa importantissima in alcuni film più tardi correggimi se sbaglio nirvana diventa molto importante diventa anche anche denti cioè comunque la musica quindi vedete questo discorso che noi abbiamo fatto su questa Milano piena di piena anche di cose molto dolorose poi arriverà il 93 arriveranno le bombe anche a Milano nessuno se lo ricorda pochi se lo ricordano ma abbiamo avuto le bombe anche a Milano quindi tra l'altro arriverà proprio nel momento stesso in cui tu due anni dopo in cui tu vinci l'oscar tu hai vinto l'oscar quindi voglio dire e non erano anni facili quelli lì però erano anni estremamente interessanti e allora è anche da questo tessuto culturale che si forma questa sensibilità che poi dopo arriva ai film peraltro il tuo primo film è un musical o sbaglio no no non sbagli però chiamarlo film ti ringrazio lavoro dai adesso l'hanno visto in tre persone mio padre mia madre e una delle sorelle nell'altra non l'ha voluto vedere però è stata la mia scuola perché non ne sapevo niente di cinema io non ho fatto scuola di cinema fatto la scuola di teatro ma non non di cinema e avevo due grandi due grandi maestri un grande direttore della fotografia che si chiama dante spinotti per capire l'ultimo dei moicani hit collateral ne potremmo dire tanti un grandissimo di fotografia e una bravissima montatrice che era gabriella cristiani che era la la compagna di chi marcalli che era il lo sceneggiatore e anche il montatore ma anche sceneggiatore perché ho scritto ultimo tango di bernardo bertolucci quindi insomma ho avuto due bravi levatrici sì ero era un musical e c'era con le musiche di mauro pagani che era uscito dalla premiata forneria marconi aveva appena finito di lavorare con de andrè e mi dice guarda per il film c'è per fare la regina della notte titania c'è una ragazza che secondo me è interessante ha una voce che si chiama gianna nannini provala e infatti c'era nel film e la fa molto bene ci siamo rivisti settimana scorsa con gianna che è cambiata molto ho detto dobbiamo fare la seconda parte della settimana come nasce l'idea di marrakesh express perché poi dopo ti chiederò il titolo di andiamo al titolo del libro lasciateci perdere ma arriva dopo perché arriverà dopo c'è un motivo come nasce marrakesh express marrakesh express nasce ecco a proposito si parlava di quell'età di quel periodo lì di quel periodo lì nasce io avevo fatto un film prima che si chiama kamikaze nell'ultima notte a milano con degli attori che poi sono diventati molto famosi che lavoravano con me a teatro prima sconosciuti paolo rossi claudio bisio antonio catania gigio alberti silvio orlando per dire alcuni e da quel quel film lo vide un produttore che si chiama gianne minervini e uno degli sceneggiatori enzo monteleone mi disse guarda questo film l'abbiamo scritto con carlo mazzacurati che che era un regista molto bravo e se vi capita di trovare dei suoi film ancora in giro vi consiglio veramente di vedere che non c'è più purtroppo ed era anche una persona fantastica e lui aveva litigato col produttore e quindi non poteva più farlo il produttore si era preso i diritti della sceneggiatura e basta allora io però prima di fare il film lo chiamo dico carlo mi stanno proponendo marrakesh express che è una storia vera e c'è una storia di amici padovani veramente è successo davvero sono tutti andare in marocco per per una storia loro se se hai solo una possibilità di fare il film io non lo faccio e lui mi dice una cosa guarda dice farlo non posso però potrei rompere le balle parecchio solo che si fa talmente tanta fatica a fare le cose che perdere anche solo un secondo per disfarne qualcuna non vale la pena quindi prenditi il film e fallo qualcosa del genere me lo disse pochi mesi dopo francesco de gregori quando per chiedere i diritti che non mi volevano dare perché costavano tanto della leva calcistica della classe 68 di di de gregori che c'è nel film decisi di chiamarlo direttamente di riguarda io non posso non usare questa canzone la scena è così e lui mi disse ma sì guarda ti firmo io una cosa nella nostra generazione testualmente mi disse è così uno fa una cosa la lascia per strada qualcuno passa la trova interessante la prende e la usa quindi usati sta canzone questi erano gli anni in cui in cui sono cresciuto infatti ringrazio molto la mia generazione e anche il fatto di essere cresciuto in quel periodo nel libro però dice una cosa interessante che la tua generazione parliamo a livello cinematografico non ha avuto dei padri cinematografici siamo siete stati autarchici per citare nanni moretti no sì purtroppo sì la generazione di registi che ci ha preceduto no bernardo erabe bertolucci era l'assistente di grazie di pasolini le cose si scrive le scrivevano insieme tra di loro dico dico bernardo ma fellini scriveva per altri registi aveva scritto paesà per rossellini cioè c'era un sistema di scambio di idee di di sogni di che era meraviglioso ed erano loro si avevano avuto dei maestri prima noi no purtroppo c'è quella generazione la generazione di bertolucci non ha fatto figli non so come dire e quindi ce la siamo dovuta un po inventare sulla nostra pelle però credo che sia quello che quando mi chiedono quando un ragazzo mi chiede come un consiglio per per cominciare a fare cinema e dico sempre di fare un po come noi cioè non c'è bisogno di scuole non c'è bisogno di regole non c'è bisogno secondo me eh di eh di leggere i cahiers du cinéma anche se fa bene leggere i cahiers du cinéma ma insomma non è necessario eh quello che conta è provarci stare insieme magari con degli amici adesso poi è facilissimo girare anche con un telefonino e provare a farlo eh provare a farlo e magari farlo vedere a qualcuno cioè non fidarsi dei maestri secondo me ecco Paola tu ehm si occupata ti occupi da tanto tempo di cinema da questa generazione però sono usciti fuori dei nomi straordinari quindi è vero che non ci sono stati padri ma ci sono stati dei grandi innovatori beh sì sicuramente Gabriele fa parte di una generazione ehm diciamo quelli almeno in Italia ci sono almeno tre filoni no che sono usciti eh uno è il suo uno è quello di Nanni Moretti e uno per esempio per citare un altro premio Oscar è Giuseppe Tornatore più o meno la stessa generazione poi ce ne sono poi c'è una generazione un po' più giovane penso Martone tutta quella lì poi arriva ancora dopo Sorrentino Garrone eccetera ma sai non è tanto una questione secondo me di eh di età e sì è vero l'età è molto importante e e questo libro in qualche modo i racconti di Gabriele in questo libro dimostrano però è anche vero che conta moltissimo l'humus culturale cioè eh l'humus di ehm di Gabriele è quello della sua origine teatrale l'humus di Nanni è Roma e il superotto quello di eh di Tornatore è sicuramente l'inizio il suo inizio non a caso viene dal documentario cioè ognuno ognuno di loro diciamo ribadisce quello che ha appena detto Gabriele come consiglio alle generazioni future cioè ognuno se la deve trovare in qualche modo la sua strada non ci sono padri che tengano perché a meno che i padri siano eh l'industria cinematografica non so degli anni quaranta in America dove c'era uno studio che ti assumeva e che ti trovava il cast il direttore della fotografia i costumisti e tutto quanto ma quel tipo di industria cinematografica non esiste più non ci sono più i vivai cioè non è che oggi non so i grandi produttori di cinema oggi sono le piattaforme non non sono dei vivai di artisti quindi ognuno deve fare un po' da sé e trovare la sua strada sono d'accordo. Allora veniamo adesso al titolo lasciateci perdere che non tutti lo sanno ma doveva essere il titolo di Mediterraneo il film con cui poi hai vinto l'Oscar. Sì era un titolo provvisorio poi per fortuna invece è saltato fuori Mediterraneo che secondo me è più bello più ampio più più interessante anche perché poi in quel periodo lì venne fuori un bellissimo bellissimo documentario su Chad Baker che si chiamava proprio Let's Get Lost e quindi lasciateci perdere lo abbiamo lasciato perdere lo abbiamo però riesumato per il per il libro anche perché ci sono almeno almeno tre ma sai che continuo a contrarre gente che mi dice c'è anche questa possibilità comunque almeno tre significati che per noi sono importanti uno è quello letterale lasciateci perdere lasciateci perdere lasciateci stare il secondo è però lasciate che ci possiamo perdere perdere dentro un sogno dentro un viaggio dentro un amore dentro un film e il terzo è permetteteci di non essere sempre vincenti in questo momento che stiamo vivendo se non sei vincente ti senti un cretino allora io credo che si possa anche perdere senza essere perdenti anzi penso che chi vince sempre ha qualche scheletto nell'armadio nascosto quindi lasciateci perdere dai lasciate che qualche volta possiamo anche perdere arriviamo adesso alla trilogia o quadrilogia della fuga ecco che è un pezzo molto bello del libro perché proprio i ricordi perché noi questo questi sono film di cui appunto lo dicevamo prima abbiamo dei ricordi dei flash no li abbiamo visti anche chi li ha visti una volta sola ma certe cose ti resta i luoghi gli amici il lasciateci perdere perché appunto sono persone che in qualche modo vanno via se ne vanno fuggono e raccogli nei racconti di gabriere la cosa incredibile è che quel gruppo di attori davvero faceva dei film nel film storie intrighi non so antipatia o caratteri particolari litigi ma poi anche un grande grande effetto una grandissima solidarietà che poi vi ha legati tranne uno ma poi lo diremo chi è quello ha gustato poi lo diremo il gabriele è stato gustato da un attore poi lo diciamo però ecco gabriele ci racconti quell'atmosfera con abba tantuono con conti che poi scusami ugo conti che poi doveva sempre stare con diego perché diego si sentiva più tranquillo davvero sembra un film nel film no questa questo gruppo di persone che lavorava assieme quando quando abbiamo messo insieme il gruppo di attori mi sono reso conto che venivano tutti da esperienze diversissime diego e aveva fatto già una quantità di film per marrakesh dici sì per marrakesh sì sì per marrakesh credo che tu parlassi di quello no il e aveva già fatto tantissimi film aveva già avuto molto successo e anche molto insuccesso attila che era l'ultimo del periodo del terroncello era andato malissimo e diego aveva tanto anno era allora io ero da poco uscito dal teatro dell'elfo il teatro dell'elfo ci chiamavano il comitato centrale del partito comunista cinese perché eravamo molto molto radicali collettivi tutto collettivo non si fermava mai gli manifesti c'era scritto creazione collettiva tutti i nomi in ordine alfabetico mi giravano anche un po le palle perché in fine cosa uno fa il regista uno fa uno fa l'attore però era così era aveva un senso anche quello e il e diego era tutto quello che secondo me non bisognava fare nel teatro nel cinema e e dovunque e poi invece ho scoperto un'altra persona una persona un grandissimo attore secondo me molto più grande di quello che avrebbe potuto fare delle cose meravigliose se fosse stato un po meno pigro ma voleva essere convocato alla fine c'era questa storia pazzesche però per finire il discorso erano tutti diversi due gigio alberti veniva dal teatro dell'elfo quindi da un'esperienza completamente diversa giuseppe cederna anche e fabrizio ventivoglio io non lo conoscevo mi era stato suggerito da minervini e allora all'inizio proprio non si conoscevano e io dico come fanno questi essere degli amici così forti è vero che nella storia sono erano ex amici che si rivendono dopo un tot di anni e quindi ho usato proprio questa cosa viaggiavamo marrakesh è quasi un documentario guarda perché è girato in sequenza è una cosa che non si fa più cioè dall'inizio alla fine c'è la prima scena l'abbiamo girata la primo giorno e l'ultima scena l'abbiamo girata l'ultimo giorno in viaggio da Milano al Marocco in tutti insieme su un pullman con Diego che col microfono del pullman cantava le canzoncine faceva le battute ci intratteneva e tutti insieme piano piano il gruppo si è formato talmente tanto che in una scena in cui dovevano litigare si capiva benissimo che non era vero io lo sentivo che facevano finta di litigare ho bisogno di farli litigare davvero in qualche modo di farlo sentire allora mi è venuto in mente il fatto che siccome Diego si sveglia sempre tardissimo ovviamente perché va a dormire tardissimo perché ha sempre paura di andare a dormire da solo dice sai qua ancora un pochino qua io stiamo insieme mi faccio piccolo piccolo mi metto sul sul comodino stiamo insieme e quindi si svegliava sempre molto tardi e Gigio Alberti che era quello meno conosciuto del gruppo invece era quello condannato a essere convocato sempre prima degli altri allora un giorno per fare questa cosa ho cambiato completamente l'ordine del giorno mettendo Diego che si doveva svegliare alle 5 di mattina e Gigio comodamente alle 10 quindi è partito una lite tra di loro furibonda ma la scena è venuta bene davvero come è raccontato nel libro pensavi che Mediterraneo non avrebbe mai potuto vincere un premio Oscar? sì sì no no lo pensavo assolutamente sì tanto è vero che eravamo in Messico a girare il puerto escondido e a inseguire il peyote poi ne parleremo se volete ma il assolutamente no lo scoperto che era stato nominato nella cinquina noi eravamo in Messico tutto si svolgeva tra l'Italia e un signore che forse conoscete si chiama Harvey Weinstein credo che sia in galera adesso lo conosciamo ma che però che non era una persona raccomandabile che non è però di cinema ci capiva ci capiva veramente lui che ha cambiato molto del cinema americano di quegli anni perché ha introdotto registi nuovi pure questo disgraziato qui film stranieri film diversi ha fatto rinascere in qualche modo il cinema americano davvero in concorso ah no noi eravamo appunto in Messico a girare un giorno torno stanchissimo dopo aver girato una scena di lotta di galli quindi già mi facevo impressione i galli che lottavano insomma poi tardi di notte torniamo a casa non vedevo l'ora andare a dormire entro in camera d'albergo e vedo fiori dappertutto mi chiamo giù dico scusate guardate vi siete sbagliati volete portare via sta roba perché non so per chi è no guardi è per lei dico come per me allora apro un fogliettino e effettivamente era c'è Chigori e altri che mi facevano le congratulazioni per il per la nomination all'osca per cui prese tutte le bottiglie champagne messe nella piscina svegliati tutti siamo andati a fare un bagno bevendo bevendo dello champagne e mi ricordo benissimo che a un certo punto ero di fronte a Rita la mia compagna ex moglie di Diego Batanzuono poi se volete vi racconto e lei a un certo punto vedo che cambia espressione vedo una luce su di lei e dice guarda mi volto e giuro giuro non sto raccontando storie c'era una stella cadente che sembrava una meteora in realtà lunghissima come quella di Berman ma davvero lunga 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 e faceva una luce fortissima e gli ho detto ma chissà se è un buon segno arrivati però a Los Angeles mi accorgo che c'è un film in concorso che è decisamente più bello del mio lo penso davvero e si chiama Lanterne Rosse di Zhang Yimou che è un film bellissimo se non l'avete visto ve lo consiglio e quindi per me avrebbe vinto lui sicuramente quindi non ci pensavo proprio non solo ma quando Sylvester Stallone era lui che doveva annunciare l'Oscar la signora che mi avevano appioppato come guida all'interno di Oliver ogni nominato ha un suo tutor diciamo che è un ex membro dell'Academy un ex Oscar insomma e a me mi era capitata stranamente la sceneggiatrice di Frank Sinatra che comunque è la signora gentile la quale quando vede Stallone dice ah beh questo è un buon segno perché qui si cerca lui è di origine italiana quindi è possibile che dico dai sì buonanotte cioè figurati se e lui arriva Rambo sul palcoscenico con la musica di rock con la musica di rock sì 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 con la musica sua apre la cosa e sul cartoncino che c'è in realtà c'è scritto and the winner is mediterraneo Italy e poi accetta il premio ritira il premio il regista lui emozionato dal fatto che la cosa era italiana lui dice and the winner is Italy e io capisco Ilari e dico cazzo e dico lo sapevo c'è un sesto film che non sapevo che c'era e infatti e infatti non mi sono neanche alzato fino a che qualcuno mi ha detto guarda che sei tu e poi parte la musica di Mediterraneo e quindi assolutamente no non me lo ricordo in seguito con Lanterne Rosse nei bagni ci sono due seguiti uno perché quando esce io c'era la prima guerra in Iraq allora e insomma in America c'avevo davanti che ne so Spielberg c'avevo proprio in prima fila oddio l'attore di Bonnie and Clyde famosissimo grazie e tanti altri che noti e dico cavolo qui sono nel centro del mondo almeno cinematografico e che dico guardate grazie ringrazio tutti le solite cose non la mamma e il papà eccetera però velocemente e dico però lasciatemi fare un invito visto che c'è una guerra facciamo tutti come i soldati di Mediterraneo smettiamo con la guerra e la vita è meglio lì parte una musica fortissima si accendono le luci e due signorine molto belle mi portano fuori mi ero dimenticato che non si possono fare dichiarazioni politiche all'Oscar ma io non pensavo da ignorante e ideologicamente un po' spostato che la guerra fosse la pace fosse una cosa politica invece sì è una cosa politica come una cosa politica la guerra hanno ragione loro però comunque mi hanno portato fuori e cominci di un percorso tra giornalisti fotografi cose un percorso di guerra fino a che non arrivi in una stanzetta dove c'è trovo Diego che sta brindando con alcuni alcuni membri dell'Academy Awards e mentre stavamo lì parlando in fondo al fondo del corridoio vedo Rita cioè la sua ex moglie mia attuale compagna ma era successo da poco tempo da sei mesi gliel'avevamo detto mentre giravamo Mediterraneo ma allora si erano già lasciati Diego stava già con un'altra persona comunque vediamo Rita che corre in seguito dalla security americana che insomma ci mettono poco a fermarti perché io e Diego ci guardiamo terrorizzati e all'unisolo gridiamo no è mia moglie cioè no vabbè insomma è nostra moglie diciamo nostra nostra moglie il commento è stato Italians però poi hai dovuto la seconda cosa tutto questo con l'Oscar in mano perché manco ti danno una scatoletta c'hai questo signore nudo senza peli perfettamente depilato in mano e vabbè scendo perché dovevo finire la serata che è lunga e vado in bagno arrivo perché dico sarà lunga la cosa meglio fare la pipì come dice mia madre prima dei viaggi delle cose lunghe mi diceva sempre e allora scendo nel bagno io in un angolo vedo un signore di spalle appoggiato così al muro e riconosco Zhang Yimou per cui io mi avvicino mi viene spontaneo mettiamo che questo sia l'Oscar io mi avvicino e dico signore Mu lui si volta e in un inglese banale gli dico mi dispiace molto con l'Oscar mi dispiace molto perché il suo film è veramente più bello del mio lui si è voltato aveva gli occhi rossi e mi dice qualcosa in cinese che non ho capito ma il senso era veramente chiaro ero sicuro era proprio evidente poi ci sarebbe anche ma questo lo racconto io perché è troppo bella quando hai incontrato Luc Besson ah sì questa è bella però perché sì noi eravamo che eravamo in giuria insieme a Shanghai e a me facevano sempre i complimenti per Mediterraneo a lui facevano sempre i complimenti per Nikita e a un certo punto gli dico però ne abbiamo fatti decine di film sempre Mediterraneo e lui giustamente mi dice senti pensa che ci sono tanti nostri colleghi che non hanno neanche un film per cui sono ricordato aveva ragione no è bellissimo ecco questo libro è bello perché intreccia l'aneddoto ce ne sono tanti come questi sono molto divertenti ha delle riflessioni molto profonde appunto il teatro anche sul cinema infatti io starei qua due ore perché avrei tante cose da chiederti ma adesso qualcosa ti chiedo e poi Paola c'è anche la vita di Gabriele questa vita che si intreccia a tutte le cose si è proprio aperto è una vita diciamo poi magari normalissima per certi aspetti però perché appunto ci sono le sue storie le sue relazioni amorose ci sono appunto i rapporti d'amicizia non tantissime non tantissime veramente molto poche in realtà però intense no perché comunque lui vende la sua la sua prima chitarra per fare un regalo alla sua prima fidanzata che poi lo lascia per un altro per il suo migliore amico ma il giorno dopo il giorno dopo ci avevo messo tanto a comprare sta fender perché però diciamo l'epilogo finale è meraviglioso perché il fratello di questa fidanzata di questa prima fidanzata è poi diventato il direttore della fotografia della maggior parte dei film di Gabriele quindi praticamente tutti è Italo Petriccione fratello di questa Denise Petriccione che era la sua fidanzata per la quale lui per farle un regalo aveva venduto la chitarra elettrica che peraltro aveva comprato sfidando le ire della mamma che era convinta che con una chitarra elettrica il suo povero bambino potesse morire fulminato che comunque se avete avuto delle madri apprensive sapete che è una cosa normale cioè sono pensieri normalissimi delle madri e poi insomma c'è la relazione con Rita che dura da 40 anni che sicuramente diciamo accende la fantasia in quanto lei era la ex moglie di Diego e che però appunto è una storia che al suo interno ha avuto alti e bassi che però non racconterei perché sennò non prendono più il libro perché questa qui è la parte questa è la parte però si possono dire due cose una sulla chitarra che forse c'è nel libro però è una cosa che mi è rimasta impressa perché passavo i pomeriggi attaccato alla vetrina di un negozio a Milano che c'è ancora si chiama Milan Fisa dove tra l'altro i Beatles erano andati a fare le prove quando hanno fatto la prima tournée nel Santa e passa al Vigorelli a Milano e c'era questa Fender che era la era la chitarra di Hendrix la guardavo la guardavo e risparmiavo soldi non andavo al ristorante quando finalmente riesco a mettere insieme i soldi io ero allora ero nel movimento studentesco anzi veramente nella commissione cultura del movimento studentesco e compro sta chitarra e vado all'assemblea in statale entro e c'è un signore sul palco che dice testualmente e con questo possiamo definitivamente dichiarare la chitarra elettrica strumento del capitalismo americano sono passato a lotta continua bellissimo bellissimo l'altra cosa scusa brevissimamente nel libro non c'è perché forse abbiamo fatto anche bene a non dirla ma Diego e Rita hanno una figlia fantastica che adesso ha 35 anni e tre nipoti che mi chiamano nonno birichino perché gli faccio gli scherzi e le cose teatrali che facevo con i bambini no? Diego dice tu non sei il bisnonno sei il nonno bis ricordati eh cioè comunque questa bambina io l'ho conosciuta che aveva 5 anni quindi non l'aveva presa proprio benissimo questo cambio però vedeva che io e Diego lavoravamo insieme giocavamo insieme ridevamo insomma piano piano la cosa passava però era una bambina molto seria grassottella e un giorno il primo giorno di scuola dell'elementare l'accompagno a comprare i era già da un po' che vivevo con Rita e Marta l'accompagno a comprare i libri e lei immaginatevi la campagna toscana i cipressi gli uccellini gli ulivi tutto bello la macchina che scende lungo i poggi lei serissima seduta vicino a me mi fa Gabriele posso farti una domanda certo Gabriele cosa vuol dire frocio no allora frocio non si dice è una brutta parola come dire stupido come dire idiota è un insulto puoi dire omosessuale gay sono uomini a cui piacciono degli altri uomini non gli piacciono le donne gli piacciono gli uomini ma è sempre amore insomma è così ah faccio un altro giro tra i cipressi e mi fa dice ma Gabriele a te ti piace la mamma sì certo che mi piace la mamma tanto è vero che sto con lei vedi ah e perché papà dice che sei frocio questo è Diego 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 puro è Diego impurezza Diego impurezza questa battuta ti piace la mamma che mi piace la mamma Grazie a tutti